Bologna, Museo Civico del Risorgimento Nato nel 1888 per ricordare e celebrare l'unificazione italiana appena realizzata. Il Museo del Risorgimento è oggi un museo di storia della città, di cui testimonia le vicende dal 1796, anno dell'arrivo delle truppe rivoluzionari francesi di Napoleone a Bologna, e il 1918, anno conclusivo della Prima Guerra Mondiale. L'età napoleonica rivive nelle preziose armi di Gioacchino Murat, cognato di Napoleone che fu re di Napoli. Sua figlia Letizia si sposò e visse a Bologna. I documenti cifrati ed i simboli della carboneria e delle altre società segrete raccontano le cospirazioni del periodo della Restaurazione. Restaurazione, il periodo storico di circa 30 anni successivo alla sconfitta di Napoleone, 1815, in cui in Europa tornano a dominare i sovrani assoluti. Gli anni centrali del processo di unificazione vengono proposti attraverso la figura di Giuseppe Garibaldi, ma anche con le armi, uniformi, bandiere dei tanti volontari Garibaldini e non, che dall'Emilia Romagna partirono per le guerre di indipendenza. I cimeli di Ugo Bassi e della battaglia dell'8 agosto 1848 ricordano la figura più amata dal popolo e la battaglia più rilevante del risorgimento bolognese. Troviamo poi le testimonianze dello sviluppo economico e del nuovo assetto urbano che trasformarono la città nei decenni dopo l'unità italiana, arrivando al XX secolo profondamente modificata e molto più moderna. Il percorso si chiude con la sezione dedicata alla Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale vista principalmente dal fronte interno, ossia attraverso la vita ed il sacrificio della popolazione civile, la stampa e la propaganda di guerra. Fa parte del museo la sezione di Filatelia, collezione di francobolli e storia postale Giorgio Tabarroni. in cui sono esposti antichi francobolli di area italiana e una raccolta dedicata interamente a Malta, che per la sua posizione geografica ha un ruolo importante nella storia delle comunicazioni postali del Mediterraneo. Grazie. 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 Grazie.